Il DBM, Dipartimento Bella Musica, vi presenta This is the moment they've all been waiting for This is the sound of This is the sound of Non cominciamo, non cominciamo, per piacere Perché? Perché questo è un appuntamento che c'è una volta all'anno E quindi va condotto in un certo modo, con una certa serietà, ok? Un saluto arriva dai microfoni dello studio rosso di Milano da Alba, Alba Alba, Alba Albertino, sono io Dall'altra parte del vetro, inseparabile Anche l'ultimo giorno del 95 Lui, fa 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 Fargetta Fargetta Con la rivista Glamour sotto il braccio Ma soprattutto con una pigna di brani, di dischi Che saranno poi i brani che scotterete in queste due ore E sono 36 le canzoni che abbiamo selezionato Dico abbiamo, non perché l'abbiamo fatto solo noi Ma perché l'abbiamo fatto anche noi con voi E quindi approfitterei in apertura Per ringraziare tutti quelli che quest'anno non hanno solo registrato Quindi non sono solo amici della cassettina Ma si sono anche segnati tutte le canzoni delle nostre classifiche di quest'anno E quindi il lungo elenco di amici che hanno scritto, faxato Dandoci una mano a stilare questa speciale classifica Dei 36 brani più ballati dell'anno Parlo di Federico Di Prato Antonella da Milano Alessandra Fattizio da Milano Dario Norris Begnami da Lodi Andrea da non so dove Alessandro dalla Igueglia Alessia da Palermo Cutuficio Fare Francesca, punto di domanda, non so da dove Spittania e Sara da Arona, Novara Marco Marco Giordano Simona E poi per ultimo Ma forse è stato quello più Diciamo più preciso Quello che è esagerato Quello che ha scritto un libro Su un anno di DJ Parade Con statistiche, dati, curiosità Numero uno Riempi pista Gaetano da Milano Che ringraziamo Perché il suo libro ci darà una grossa mano Per condurre questa trasmissione Che comincia con la prima Numero uno del 1995 Tre settimane al primo posto indiana All I need is love All I need is love Alla nittizna, alla nittizna 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 Ho cominciato seduto, mi sono alzato Perché non riesco a stare fermo La prima numero 1 del 95 Tre settimane di permanenza in vetta La DJ Parade indiana, alla nittizna Ascolteremo anche alcune canzoni Che al numero 1 non ci sono mai arrivate Ma che sono state per frecchio tempo Nella zona alta della nostra classifica Per esempio a gennaio Due settimane di permanenza nello spazio Riempi Pista per il Network Compassion Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info come avrete sentito questa canzone è stata anticipata da un jingle personalizzato e noi abbiamo raccolti tutti i jingles che sono stati fatti per noi per questa trasmissione per il dj time per me e faremo una carrellata anche di jingles che sono molto divertenti anzi ringraziamo tutti gli artisti che si sono prestati a personalizzare le loro canzoni per questo programma per radio dj in network mai al numero uno ma due settimane nello spazio riempi pista gennaio era fashion l'altra canzone che non è mai arrivata al primo posto ma che è stata nello spazio riempi pista per tre settimane a gennaio perché prezioso ha fatto il cattivo è questa anybody anyway da radio dj a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.